Buongiorno ragazzi, queste sono le condizioni in cui io mi sveglio, guardate Mi vergogno anche un pochino a farvelo vedere, ma ve lo devo far vedere Cioè ho la notte, faccio la guerra con cuscina, tutto 3 miliardi di cuscini C'ho anche questo che serve appunto proprio per dormire in gravidanza Comunque ragazzi mi dovete credere, è veramente una sofferenza Perché non so come mettermi, mi fa male la schiena in qualsiasi posizione E poi dritta, mi piace dormire pancia all'aria con tantissimi cuscini Ma ho letto che fa male per il bimbo Di lato con questo, sì un po' più di sollievo, ma comunque mi viene mal di schiena E mi giro, e mi rigiro, comunque mi dovete credere Poi faccio la lotta con le coperte, il frattempo Pupi fa casino Adesso devo fare tutto il letto, faccio la lotta con le coperte perché ho caldo, ho freddo Comunque ragazze, vi giuro che è un dilemma, ragazze incinte consigliatevi Voi come fate? A parte darvi una botta in testa o prendervi un sonnifero È veramente dura Sono un sacco di buste di cose che vi devo far vedere perché siamo tornati da Amsterdam E ho comprato un sacco di souvenir Guardate lei come fa appena che tocco qua le cose di baby Ve le devo far vedere, sono stupende da Primark Ho preso tutte le cose per baby, dopo ve le faccio vedere Ragazzi ci sono due belle cose La prima è che finalmente è spuntato il sur, è una bellissima giornata E la seconda è questa Solo le nuove marmellate senza zucchero dietetiche fit di Foodspring Voi non sapete da quanto tempo le stavo aspettando Adesso le proviamo insieme Io le ho prese tutti i gusti Due barattoli per ogni gusto Perché queste vanno subito sold out Un po' come è stato con la cioccolata Quindi ho fatto scorta Ragazzi vi consiglio di fare lo stesso perché sono pazzesche Sono senza zucchero Quindi non mi fanno ingrassare Io l'ho presa Allora c'è il lampone, fragola Non ho preso due di ognuna E albicocca questa una l'ho regalata a Dario Perché sono ottime da mettere anche nello yogurt Perché lui mangia la mattina lo yogurt Quello greco che magari è acidulo senza zucchero Mettete un cucchiaino di questo dentro E diventa molto più buona E alla fine non avete aggiunto zuccheri Quindi se guardate i valori Vi faccio vedere Vedete hanno praticamente Hanno 3,4 zuccheri Quindi praticamente zero E sono fatte proprio da frutta vera Quindi promettono benissimo Ragazzi qui ho messo questa qui Qui al lampone Adoro E qua metto questa qui Anche la consistenza è bellissima Cioè liscia, omogenea Vedete non è ruvida o Insomma Vedete È proprio liscia, omogenea Bellissima E adesso le assaggio Io ovviamente ancora senza trucco Appena sveglia Good Ma la vera prova la voglio fare così C'è proprio qua Allora ragazzi Ragazzi, ragazzi Non sembra light Non sembra fit Sembra la marmellata Quella che comprate al suo mercato Quella con lo zucchero Come cavolo fanno questi di Food Spring A fare le cose che non sembrano light Cioè non sembrano fit Sembra una marmellata Qualsiasi Allora la bicocca Cuore Un po' Buona Cavolo Questa è pazzesca Ragazzi ve li straconsiglio Un'esplosione di sapore Vi lascio anche il mio codice sconto Ma mi raccomando Fate in fretta E state a sentire a me Prendetene più confezioni Perché subito danno a ruba E sono buonissime Sia il sapore Che i valori Carlita YT Così avete anche il 15% di sconto Su tutto il sito Quindi anche se volete prendere altre cose Andate su www.foodspring.it E fate in fretta Ragazze Ve le straconsiglio Adesso finisco la mia colazione Io queste cose qua le consiglio Anche alle persone Alle mie amiche Alle mie familiari Che veramente sono buone Comunque Finisco la mia colazione E poi dobbiamo andare a fare La visita strutturale L'ecografia strutturale Non vediamo l'ora Speriamo che il bimbo Sarà girato Così possiamo Fargli una bella foto Dato che dall'ecografia normale Non abbiamo mai capito nulla Speriamo almeno Dalla strutturale Comunque Mi vado a dare anche una sistemata Perché Così faccio un po' pena Senza trucco Con le occhiaie Perché vi ho detto Purtroppo la notte Non sto riposando bene Però Non fa nulla Non fa nulla Non mi lamento Assolutamente Tutto ok Tutto sotto controllo A dopo Vi faccio vedere anche le cosine dopo Ok ragazze Mi sono appena preparata E adesso devo andare Altrimenti Dario si incazza Ma vi volevo dire Vi volevo far vedere I prodotti che ho utilizzato Per capelli Perché me lo chiedete Insieme Anche il rossetto Il rossetto Già so che me lo chiederete Eccolo qua Per Tim Paris Stupendo Ve lo metto linkato In box informazione E vi volevo anche dire Che c'è la promo dei gioielli Su caritashop.com Ancora per O uno o due giorni Abbiamo fatto 72 ore Quindi Dovete fare in fretta Con il codice GIOIELLI15 Avete lo sconto del 15% Su tutti i gioielli Quindi Approfittate Fate scorta Se trovate ancora qualcosa Perché vanno a ruba Comunque Ci sono Bracciali Collaneci Di tutto Allora Per i capelli Vi voglio consigliare Questa routine Per capelli Perché Spesso mi chiedete Come fai ad avere i capelli Così belli Voluminosi Lucidi Sono più belli Sono più forti Allora Una routine Per la crescita dei capelli Per averli lucidi Brillanti Voluminosi Belli Folti Vedete E senza effetto E senza effetto Crespo Adoro Sono tutti miei Non sono extension Anche questo Me lo chiedete sempre Allora Impacco con questo Questo è oro fluido Per capelli Lo amo Mix di oli ed estratti Che va A nutrire i capelli Fa tipo Tipo del pacco Pre shampoo Lo metto Sulle lunghezze E sulle punte Sul cuo capelluto Massaggio Con questo Che è Un prodotto Che serve Proprio per favorire Per purificare Il cuo capelluto Tutti Però io vi metto Anche i link Che i capelli Ne box Informazione Così potete Trovarli più Facilmente Ok Li amo I miei capelli In questo periodo Quindi vi Straconsiglio Questa routine Lo scrub Sul cuo capelluto Che faccio Una volta A settimana Con questo Prodotto Che è Buonissimo Ragazzi Anche questo Ve lo metto Linkato giù È buono Da fare Perché lo scrub Oltre a purificare Il cuo capelluto Porta tanto Nutrimento E bulbi Da quando Faccio lo scrub Di solito Faccio questo O quello Di archimella Li trovate tutti e due Su carita shop Nel caso uno È sold out Prendete l'altro Perché sono tutti e due Ottimi Serve tanto Raga Una volta A settimana Fatelo Perché lo scrub Porta tanto Nutrimento E bulbi E vi fa avere Volume Sulla radice I capelli Sono più lucidi E brillanti È una coccola In più Come fate Sullo scrub Sul corpo Lo dovete fare Sui capelli Quindi io ve lo Straconsiglio Poi ho lavate i capelli Con questo Che amo tantissimo Questo è un mio Shampoo storico Cidro e finocchio Che sa Tipo Dianici Finocchietto Mi piace un sacco Fa una bella schiuma Li lava bene Molto lucidante Quindi io lo amo Ed è per capelli Dei capelli Debole sfibrati Comunque lo amo Perché fa una bella schiuma Morbida e soffice E poi Ultimo step Con la maschera Dianec Al mirtillo Adoro Mirtillo Frutti rossi Non ricordo Sì comunque è buonissimo Sembra tipo uno yogurt È molto buono E questa è una maschera Che toglie l'effetto crespo È buonissima Sia se avete capelli ricci Che lisci Ve la straconsiglio Non appesantisce i capelli Li rende proprio lucidi Lisci Nel senso che toglie L'effetto crespo E basta Sciacquo i capelli Ultimo risciacquo Acqua fredda Mi raccomando E poi L'ultima cosa che faccio Utilizzare Questo qua Che è il nuovo latte Modellante Per capelli ricci Wow Adoro Questo lo uso Sia sui capelli Bagnati appunto Prima di asciugarli Per modellare Le onde ricci Serve proprio per dare Questo effetto Sia ricci Sia onde Beach wave Vedete Toglie anche questo L'effetto crespo È tipo una crema Nutriente per capelli Che nutre anche Le punte secche Sfibrate È molto molto buono Ovviamente tutto naturale Bio Questa linea Mi piace un sacco Perché profuma di cocco E lo uso anche Sui capelli asciutti Vi faccio vedere Anche se già l'ho messo Però ne metto poco poco Per farvi vedere Vedete È tipo un latte Questo è anche scontatissimo Perché è in promo Quindi Prendetene due Tre Regalatelo È favoloso Io faccio in questo modo Vedete E vado anche a modellare I capelli Chiude le punte secche Le punte spezzate Le punte secche Sfibrate L'effetto crespo Vedete È ottimo Veramente Veramente Favoloso Provatelo Secondo me Va bene anche Sui capelli lisci Perché comunque Non è un gel È tipo una crema fluida Che toglie l'effetto crespo Nutre e lucide i capelli Comunque Vi metto tutti i link Nel box info Adesso devo scappare Altrimenti Dario Mi uccide E abbiamo appuntamento Appunto con il ginecologo Quindi mi devo muovere Perché Altrimenti salta tutto Quindi Vi porto con me Vi faccio sapere Vedete bene Questa è la schiena Testa Pancia Allora Stiamo con la testa Sopra E la pancia Giù Bene Di Siamo appena tornati È andato tutto benissimo Oh mio Dio Benissimo Nel frattempo sottofondo c'è Dario che ero vista circa il guinzellino di Pupi perché siamo venuti a prendere Pupi adesso andiamo a fare una passeggiatina io sono svenuta tre volte sul lettino dell'ecografia perché in pratica non so, era la posizione non so, poi la dottorissa dava dei colpettini per farlo girare appunto per fotografarlo ma avete visto che dei capelli che sono? vabbè io li amo troppo comunque alla fine non mi sono sentita male infatti pure Dario si è preoccupato, vero amore? sì e poi praticamente per vedere bene lo stomaco ho dovuto mangiare c'è già un mangiuno, ho dovuto mangiare una banana ho dovuto mangiare comunque appunto per riempire lo stomaco ho dovuto mangiare poi siamo tornati, comunque ci abbiamo messo due ore per fare questa ecografia però è andato tutto bene, tutti i valori sono tutti normali insomma è stata un'emozione troppo grande comunque vedere anche il viso è stato bello, adesso vi faccio vedere secondo me è una delle foto dove si vede meglio il visino è troppo bello cioè sono gelosissima di questa foto però ve la faccio vedere perché piace condividerla con voi le altre non capisco nulla vi dico la verità però solo qua capisco ed è bellissimo che bello è troppo bello dite la verità è stupendo la cosa più bella che abbiamo comprato a Amsterdam sono queste ciabatte vero amore allora mio amore le ha prese azzurre invece anche Pupi che è sempre protagonista sono azzurre e bianche sì sì anche Pupi per Pupi non c'erano e invece le mie io le ho prese così ragazze praticamente rosa mmm oddio tutto il contrario ecco così sono troppo bella poi sono comodissime io le avevo già avute una volta perché me le compro mia mamma e le ho talmente amate che le ho usate per tipo due o tre anni e poi le ho dovute buttare perché si erano invecchiate io sono felicissima di averle nuove sono comodissime e Pupi che si fa grattare sempre amore ti piacciono è vero che sono comode sono comode anche per grattare sì è vero adoro però ho preparato una cosa troppo buona per cena che non vedevo l'ora di fare e alla fine non ci vuole neanche tanto tempo i peperoni imbottiti fit al forno cioè praticamente vi spiego prendete i peperoni e li tagliate in due parti ovviamente li lavate togliete tutto come si chiama quel coso i semini con le cose del moccolo come si chiama quel coso i semini vabbè poi preparate l'impasto con le melanzane a pezzettini non vanno cotte prima si cuce tutto insieme nel forno e lo faccio così per fare più presto melanzane a pezzettini le lavate ovviamente unite a ho fatto per due persone quindi due peperoni un uovo prezzemolo sale pepe prosciutto cotto a dadini e un po' di parmigiano e poi lo mettete capperi olive se le avete lo mettete poi lo mettete dentro e ecco spargete con un po' d'olio io faccio con quello spray e poi un po' di pangrattato nel forno mezz'ora forno bello caldo e sono buonissimi grazie allora mentre Pupi sta lì guardate come è carina la sto lavando i copricuscini non ci fate caso guardatela amore vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato adesso apro tutto ci sono tutti i pacchettini tre cose di baby e vi faccio vedere allora ragazzi tutte le cose che ho comprato a Amsterdam tra l'altro guardate come sono carine queste bustine con tutti i molini e i zoccoli allora queste qua sono le ciabatte che ho preso per me e per Dario sono stupende super comode poi mi sono prese anche queste invernali che sono secondo me caldissime adoro poi questa è la palla che ho preso per mia cognata che lei fa la collezione quindi ovunque vado gliela porto poi questi qua sono i tulipani che abbiamo comprato che vanno seminati appunto perché all'Amsterdam ci sono tantissimi tulipani però verso aprile infatti noi li abbiamo trovati ma piccolissimi vanno piantati ma non sappiamo come quando perché però li abbiamo comprati ok poi le palline queste le palline per l'albero di Natale sono carine è bella sta cosa dovunque vai prendi una pallina per l'albero poi queste erano carine questa piaceva a Dario perché c'è Babbo Natale e questa piaceva a me perché ci sono i bimbi che si baciano i mulini adoro poi questo che mi piace è sempre un tulipano è tipo un fermo che tipo posso mettere sulla scrivania o lì dove ho tutti i bigliettini tipo con i bigliettini sotto comunque non so mi è piaciuto grazie queste invece sono tutte le cose che ho preso per baby amore si sta leccando lui è un gatto allora questa già ve l'avevo fatta vedere è stupenda poi c'è questa che è un set di tutine scusate c'è l'aspirapolvere sopra è troppo bello di Winnie the Pooh col bavetto la prima tutina mezzamanica il cappellino e questa tutina adoro poi costano pochissimo guardate tipo 13 euro veramente poco staccato perché non sentivo un tubo allora questo è un bavettino che è troppo carino con la mucca verde questi sono i portachiavi che ha comprato Dario questo per lui e questo per me perché lui deve sempre regalarmi qualcosa questa tutina con topolino con la bandana e il cappellino è bellissimo guardate anche questo costa 13 euro tutto questo cioè adoro questa guardate è troppo bella con la tutina sotto di topolino e questo sopra non va bene mi sono innamorata poi queste tutine che praticamente venivano pochissimo 11 euro 3 tutine e abbiamo prese così e anche così ci siamo fatti prendere un po' la mano insomma comunque queste di topolino sono stupende che poi questa anche a mezza manica e quindi non so se riuscirò a metterla però non potevo non comprarla vi giuro sono troppo belle cioè me la immagino con questa addosso no vabbè il cappellino che belle va bene ragazzi mi raccomando lasciate tanti like al video e seguitemi su instagram perché oggi pubblicherò anche la foto con l'ecografia una foto molto bella quindi vi aspetto su IG ciao popi saluti a tutti pupi ma lei è un gatto cioè lei si ricca sempre amore ma che sia un gatto mhm Grazie a tutti